E' emergenza nella sezione lavoro del Tribunale di Bari. L'Associazione Nazionale Magistrati chiede una ridistribuzione con potenziamento degli uffici di Bari e provincia. Previsto anche un incontro con il Ministro della Giustizia in servizio di Cristina Ferrigni. E' la sezione lavoro, la vera grande emergenza degli uffici giudiziari del distretto di Bari. La denuncia il Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati della Giunta Distrettuale di Bari, Salvatore Casciaro, che ha intrapreso una iniziativa formale con una lettera indirizzata al Ministro della Giustizia e al Consiglio Superiore della Magistratura. Sono soltanto 12, oltre il Presidente, i magistrati della sezione lavoro nel capoluogo pugliese che devono far fronte ad oltre 100.000 cause pendenti, senza contare che nel primo semestre del 2008 negli stessi uffici sono sopravvenuti 20.000 nuovi fascicoli. Per comprendere meglio l'emergenza basta pensare che la sezione lavoro del Tribunale di Napoli ha 48 giudici per 95.000 pendenze, Roma 63 a fronte di 35.000. E' l'aumento dell'organico dei magistrati, dunque la proposta di ANM di Bari che punta l'indice contro le istituzioni che secondo il Presidente Salvatore Casciaro fino a questo momento sono state quasi o del tutto assenti. Ci sono alcune cose che non dipendono dai magistrati, ovviamente il numero del personale amministrativo, la dislocazione dei magistrati, le dotazioni delle piante organiche. Sono di competenza ministeriale e il Ministro dovrebbe assicurare anche l'efficienza della giustizia e della macchina giudiziaria nel suo complesso. Noi rileviamo che nel distretto di Bari c'è una situazione allarmante, una situazione emergenziale e riguarda soprattutto le sezioni di lavoro di Bari e di Foggia. Ci sono stati degli studi anche del Consiglio Superiore recentissimi che hanno avvalorato questo nostro convincimento e d'altronde i numeri parlano chiaro. A fronte di circa 100.000 procedimenti abbiamo 13 magistrati per un carico di lavoro sostanzialmente non lontano da questo. A Roma abbiamo una sessantina di magistrati a Napoli 48. Insomma c'è una sperequazione nel riparto delle risorse che in sé induce a un intervento immediato. Ed ora parliamo di cultura e spettacolo. Sarà presentato domani al cinema Vittoria di Cassano il film Lo Squalo, primo lungometraggio del giornalista e sceneggiatore barese Carlo Stragapede, girato in Germania e nella suggestiva murgia barese. Maggiori dettagli in quest'intervista di Mirko Cafaro. Carlo Stragapede, giornalista della Gazzetta, ma questa volta in veste di regista. Domani sarà presentato al cinema di Cassano Vittoria il tuo film Lo Squalo. Di che cosa parla? Sì, io sono lo sceneggiatore del film, il regista è il bravissimo Francesco Di Filippo. Squalo è la storia di due gemelli separati alla nascita praticamente, nati dalla relazione fra un uomo di Bari e una donna tedesca, che si rincontrano per le vicissitudini della vita. Uno vive a Bari, l'altro vive in Germania, nel bar in Württemberg. Quello barese ha commesso degli errori, è diventato uno cippatore, ha frequentato delle cattive compagnie. Quello tedesco un giorno viene di corsa dalla Germania perché la nonna paterna sta male. Arriva a Bari, viene restato per sbaglio, finisce nel carcere Fornelli. E da questo nasce tutta un'esperienza che diventerà importante per la sua vita, ma anche per riunificare la sua famiglia. Possiamo parlare di una storia di formazione allora? Sì, è un percorso di formazione molto profondo direi, anche se io sono l'autore, e reso di spessore dalla bravura del protagonista, che è un ragazzo italo-tedesco di 26 anni, Daniel Valentino. La cui storia un po' mi ha ispirato perché lui è figlio di un santermano emigrato in Germania negli anni 70, come molti pugliesi, come molta gente della Murge, che è scappata per cercare un lavoro, per dare benessere alla propria famiglia, e di una donna di madre tedesca. Lui si è prestato a questa esperienza, ci ha ospitati per girare per le location a casa sua, alla Trupp, e poi insieme abbiamo fatto il viaggio, andato e ritorno da Bari a Ulm, in Pullman, 3.000 km in due giorni. Anche questa è stata un'esperienza straordinaria. Quanto della provincia barese, dei sapori della provincia barese di Bari ci sono in questo film? Sì, io direi tutto. Hai detto bene la parola, sapori, perché ci sono le atmosfere, c'è la voglia di ritornare alle radici, questo è importante, ritornare alle radici. Oggi Bari è una città internazionale, ospita croceristi, è un crocevia di popoli di vario genere, però noi siamo molto legati alle nostre radici, che un po' sono la nostra ancora di salvezza. Lo sono anche nel film. Passiamo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Cielo sereno, temperature comprese tra i 18 e i 24 gradi, venti moderati, mari generalmente calmi. In chiusura vi ricordo i nostri indirizzi internet www.telebari.it e www.radiobari.net. Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito, io vi auguro un buon proseguimento di giornata. A più tardi. Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito, io vi auguro un buon proseguimento di giornata.